Carissimi amici e amiche, benvenuti a questo nuovo ciclo di catechesi che si intitola il libro di Teneramata dedicato a quest'opera che adesso presenteremo brevemente. Il libro di Teneramata che ha come sottotitolo, ovviamente voluto, ciò che ci attende nella vita beata. Il titolo del testo originale che andremo a leggere insieme in effetti ricalca un po' il titolo del ciclo di catechesi. Si chiama Al di là dello spazio e del tempo, l'autore è Riccardo Perez Hernandez e il sottotitolo è Un'anima beata descrive il paradiso che ci attende. Ovviamente Teneramata è quest'anima beata che descrive come vedremo una parte del paradiso che ci attende, cioè quella che possiamo in qualche modo con un po' certamente di impegno e di sforzo conoscere e comprendere anche in questa dimensione mortale perché come avremo modo di ascoltare ci sono delle dimensioni che è impossibile poterle conoscere e pregustare adesso. Non è proprio della nostra condizione mortale. Il testo è stato tradotto in italiano da Don Pablo Martin Sangueao che peraltro ha anche scritto un pdf, credo che sia disponibile sul suo sito web, che è di fatto un commento o meglio una breve spiegazione catechetica di alcuni passaggi impegnativi, diciamo così, di questo testo. Il testo di Don Pablo si chiama Il mistero dell'ora presente e il sottotitolo è Il tempo passa in fretta, rimane o finirà? Questo è un testo veramente bello e dico subito che questo ciclo di catechesi vuole essere un pochino in continuità con quello fatto lo scorso anno dedicato all'approfondimento del tema del peccato originale perché attraverso Teneramata comprenderemo, guardando ad alcune cose che sono proprie della cosiddetta gloria accidentale, contemplaremo alcune cose che ci siamo persi purtroppo, che non possiamo vivere in questo mondo e avremo modo quindi, come dire, in parte di addolorarci un po' per la nostra condizione decaduta, ma anche di gioire, di sperare molto per quello che ci attende nella condizione beata. E al tempo stesso questo ciclo di catechesi sarà un pochino allineato con un altro ciclo di catechesi che, se Dio vuole, dovrei iniziare a breve, già la settimana prossima, e che sarà dedicato ai novissimi. In questa puntata un pochino introduttori io cerco sempre di impostare, diciamo così, il lavoro catechetico che mi coinvolge anche nel web su queste frequenze. C'è un ciclo di catechesi tematico, diciamo, strettamente dottrinale, per fare esempi di cose già trattate, per esempio la sanna dottrina cattolica o, come l'anno scorso, i vizi e le virtù. Sono temi, evidentemente, nella sanna dottrina cattolica ci sono i dieci comandamenti e i sette sacramenti. In vizi e virtù ci sono appunto le sette virtù cristiane, le tre teologali, le quattro cardinali e i sette vizi capitali. Sono temi, diciamo così, dottrinali catechetici, fondamentali per la vita cristiana. E quest'anno, appunto, intendevo approfondire i novissimi, cioè la morte e l'inferno, il paradiso e il purgatorio, con tutti quanti i temi connessi, no? Quindi la vita eterna, la risurrezione della carne, la tematica connessa all'esistenza o meno del limbo, eccetera. Temi cosiddetti escatologici. Poi, un ciclo di catechesi, diciamo così, che si apre un pochino agli orizzonti anche un po' mistico, soprannaturali e che si apre un po' anche al mondo delle rivelazioni private. L'anno scorso, certamente, il ciclo di catechesi sul peccato originale è in larga parte fondato, come abbiamo visto, sulle affermazioni e le intuizioni dei padri della Chiesa. Però, a un certo punto, circa l'ipotesi del peccato originale si apre alle rivelazioni private, in questo caso di Maria Valtorta, preferendola ad altre di cui abbiamo parlato in quella sede. Questo ciclo di catechesi si situa in questo ambito, perché il libro di Tenera Amata è evidentemente annoverabile come genere tra la letteratura definibile rivelazione privata. E quindi, certamente, siamo assolutamente liberi di credere, non credere, prendere atto, non prendere atto, tenere conto, non tenere conto. Anche Don Pablo, quando scrive il suo testo, diciamo così, di commento teologico-dottrinare al libro di Tenera Amata, appunto, Il mistero dell'ora presente, dice subito, queste sono certamente rivelazioni particolari. Lui crede, e anche io credo, che un giorno diventeranno presumibilmente patrimonio, forse anche dogmatico, della Chiesa. Però, se la Chiesa dovesse dire altro, evidentemente si fanno tutti quanti i passi indietro possibili, come accade sempre in questi casi. Poi, sempre per chiudere un pochino il quadro dei lavori catechetici, mantenere anche quest'anno, e ne faremo un paio di incontri mensili, un incontro di catechismo proprio in senso stretto, utilizzando il catechismo di San Pio X, e poi gli incontri sulla Sacra Scrittura, sulla Bibbia, e abbiamo ancora molto da lavorare con l'Antico Testamento. Ecco, questo perché, come dire, come sacerdote mi sembra opportuno aprire questi orizzonti, no? Poi, chi mi conosce sa che c'è anche un'intensa, come dire, attività anche per quello che riguarda, diciamo, l'altro ambito, che è la preghiera, sia per quanto riguarda la meditazione, con le dirette mattutine, con le meditazioni sul Libro di Cero della Serva di Dio, Pisa di Carreta, e poi le ore d'adorazione, le ore sante, le veglie di preghiera del sabato, eccetera, questo è un po' quello che caratterizza la mia attività, diciamo così, pubblica, ecco, di sacerdote, rivolta appunto a, indiscriminatamente a tutti, ovviamente come sacerdote, confesso, parlo con le persone, le visito, faccio direzione spirituale, visito i malati, e se ando parlo evidentemente celebolo con molta gioia la Messa, eccetera, no? Bene, adesso ci introduciamo a questo tema e direi di passare abbastanza celermente alla lettura, anche se questa è una puntata introduttoria, però proprio le prime battute di questo testo sono appunto una contestualizzazione. Che cosa è successo? L'autore era un pezzo grosso, quindi perché Riccardo, Riccardo Perez Hernandez, non è insomma un, era uno scienziato, quindi una persona di una certa cultura, diciamo che questo racconto, quindi questo fatto storico, è situato a città in Messico, e risale al 15 agosto del 1977. Avremo modo anche, dico due parole sull'autore, questo autore è il dottor Riccardo Perez Hernandez, che peraltro è da tempo deceduto, proprio a città del Messico, il 15 febbraio del 1978, cioè sei mesi dopo la pubblicazione di questo testo. Lui era sposato e non aveva figli. Era, ripeto, una persona di elevata caratura culturale, era uno scienziato, quindi masticava bene alcune cose che troveremo dentro l'opera che rendono alcuni passaggi di essa, a detta di qualcuno, un pochino complicata, perché continuano a parlare di cennia della teoria della relatività di Einstein, di velocità di luci, di atomi, di fotoni, di elettroni, di fissione nucleare, di fusione nucleare, insomma, quindi, insomma, adesso non voglio spaventare nessuno, però questo dà anche, come dire, è una idea che il soggetto, quindi la persona che è stato destinatario di questo evento del tutto peculiare, era un uomo di scienza, quindi non era un credulone. Ecco, noi ci lasceremo quindi guidare da lui in questo viaggio del tutto particolare. Vedremo, tenera la madre è semplicemente una ragazza che nel momento in cui si manifestò a quest'uomo viveva già la vita gluidosa del cielo e gli racconta qualcosa, beh, insomma, più di qualcosa. Un'ultima notazione, altrimenti riceve una montagna di domande, il testo è disponibile su Amazon, quindi sia il cartaceo che il digitale, per chi vuole leggere il testo lo trova tranquillamente disponibile su Amazon. Comincerei a questo punto la lettura, lettura che ovviamente cercheremo di commentare. Tutto accadde in un pomeriggio affoso di domenica di estate. Dopo pranzo, soddisfatto e accaldato, vuole riposarmi e svagarmi, vedendo alla televisione un programma di cartoni animati. Mi feci una tazza di caffè senza caffeina, mi accomodai sulla mia vecchia poltrona e accesi una sigaretta. Se non mi divertivo, era sicuro almeno che mi sarei addormentato. Sul tavolino metallico di ingombro, più volte rotto e altrettante risaldato, misi alla mia sinistra la tazza di caffè e il pacchetto di sigarette. Alla mia destra, sull'ampio bracciolo della poltrona, il portacennere con la sigaretta. Senza animo critico, col solo desiderio di divertirmi, mi lasciai portare dal classico argomento. Il pupazzetto buono sarebbe stato esaltato per il suo coraggio o la sua virtù e il cattivo battuto o punito senza pietà. Ad un certo punto l'immagine rimase fissa sullo schermo. Non sentivo nessun rumore, nemmeno i veicoli che col tubo di scarico aperto continuamente circolano per il vicino viadotto Tlalpan Sud. Pensai ad un guasto del televisore. Stavo per alzarmi quando mi accorse di qualcosa di sorprendente. La colonna di fumo della mia sigaretta rimaneva paralizzata, come una bianca filigrana incapace di finire il suo logico svolgimento. Soffiai sul fumo e nemmeno si mosse. Incominciò a preoccuparmi, una sensazione con qualche potere strano, insospettato, si esercitava su di me. Regnava una quiete assoluta. Mai avevo sentito un silenzio così profondo. Nemmeno percepivo per quanto tendessi l'orecchio il rumorio della cuoca che poco prima mi molestava. Un freddo intenso al quale sono sempre stato molto sensibile aveva paralizzato tutte le mie articolazioni. Ma non si trattava del freddo invernale che ben conoscevo, ma di un altro diverso e doloroso. Credevo di essere vittima di un incubo, da quello urgentemente dovevo svegliarmi. Pensai di essermi mal accomodato sulla poltrona e che perciò soffrivo un simile sogno. Cercai allora di alzarmi, ma il mio corpo sembrava di piombo. A stento riuscii a muovere le mie mani attaccate ai braccioli della poltrona da una forza misteriosa. Sono forse infermo, dissi a me stesso. Ma di che cosa se un momento fa mi sentivo bene? La mia preoccupazione diventò stupore e poi paura. Non potevo comprendere ciò che stava accadendo. Incominciavo a disperare di timore e di freddo quando in mezzo a quel gran silenzio sentii una voce femminile molto gradevole che dall'inferiata dell'atrio mi chiamava per nome. Con difficile sforzo, mosso allo stesso tempo da paura e da desiderio di compagnia, mi affrettai a venire da lei. Non so come mi alzai dalla poltrona e non diedi importanza in quei momenti a che i cardini della porta della stanza, come anche gli stessi miei passi, non facevano il loro caratteristico rumore naturale. Traversai barcollando il cortile che separo la stanza dall'inferiata dell'atrio. I piedi mi pesavano come due blocchi di acciaio. Mi trovai davanti all'inferiata con una bellissima ragazza, sui vent'anni, alta, molto ben formata. Gli occhi di colore gaffè chiaro, bellissimi ed espressivi, grandi e dolci, infantilmente limpidi, irradiavano un'immensa felicità. Le sue labbra erano piccole e sottili, ben disegnate e molto rosse, ma senza nessuna pittura. Le guance, terze e leggermente rosee, presentavano al ridere due attrattive fossette. Contemplai estatico la sua bellezza. Quando abbasso gli occhi dinanzi al mio insistente sguardo, osservai la limpidissima cute del suo viso. La sua espressione mi apparve serena nella sua gioia, ma di un'insolita serenità che oltrepassava la tenera giovinezza del suo aspetto. Era vestita come in genere vestono attualmente le ragazze di un ceto medio. Credo che il suo vestito, fine e semplice, era di color crema. Non vidi nessun gioiello, ma non ne aveva bisogno, perché la sua bellezza splendeva per se stessa. Il guardarla mi tonificò. Dimenticai le mie preoccupazioni di poco prima. Era la donna più aggraziata che avessi mai visto in vita mia. Possedevo quel tipo di bellezza che mi ha sempre affascinato. Non potevo smettere di ammirarla. Tuttavia la mia abitudine di compiere i convenevoli sociali non mi permise di continuare ad osservarla. Ma ero certo di scoprire in lei molte altre qualità incantevoli. Finezza nel suo atteggiamento, sottili tratti di maggiore bellezza, affinità di ideali. Insomma, qualcosa in più di ciò che percepivo nei miei primi sguardi e che mano a mano che li andavo scoprendo avrebbero fatto rivivere in me quel meraviglioso sentimento dell'amore che non sperimentavo da molti anni. Per il momento decisi di adoperare tutte le mie povere armi psicologiche per indagare tutte le sfumature della sua attraente personalità. Come mi dispiace non esserci riuscito. Perché la mia incantevole visitatrice era molto al di là della mia portata. Lei mi salutò come se mi conoscesse bene. Vengo a visitarti da molto lontano. Sono di San Luis Potosí. Ma tu non ti ricordi di me? In quel momento non capì la trascendenza delle sue parole. La città di San Luis Potosí non è molto lontana. Insomma, sono comunque 500 km a nord di città del Messico. Per il Messico non sono grandissime distanze, però supponiamo che chi parte da Roma 500 km è arrivato quasi a Milano. Mi venne in mente che fosse la nipote di qualche amico mio. Ma di chi se sono più di trent'anni che non vado in quella città. La sua bellezza, oltre ad essere affascinante per me, possedeva una certa lassomiglianza che mi riuscì a familiare. Mi ispirava una simpatia, un'affinità, al di là della nota attrattiva che l'archetipo della mia donna ideale ha sempre avuto su di me. Questa meravigliosa donna pareva di riportare alla mia memoria qualcosa. Qualcosa di speciale che sul momento non riuscivo a ricordare. «Ci siamo conosciuti a San Luis Potosí», aggiunse sorridendo, «in casa delle signorine Campos». Per quanti sforzi facevano la mia memoria, non indovinavo. Le signorine Campos erano per me un ricordo di più di 40 anni indietro nel tempo. «Entra, per favore», le dissi, e mi affrettava ad aprire l'inferiata chiedendomi chi sarebbe quella visitatrice. Quanto più la guardavo, tanto più mi affascinava, soltanto quel tremendo freddo insopportabile. Nel passare davanti a me potei contemplare i suoi capelli sciolti, lunghi quasi fino alla vita, molto sottili, morbidi e castani, con tanti fili d'oro, il cui splendore accentuava e l'uccichio dei suoi occhi. Mi sembrarono appena umidi, con l'odore di pulito, ma non potei percepire nessun odore. Soltanto dopo ne seppi la ragione. Quando attraversò il cortile, incialmò al calpestare uno dei gradini. Mi affrettai a sorreggerla. Le mie dita sfiorarono appena il suo cambraccio, leggermente bruniccio e con sottilissimi velli dorati. Il lieve tocco della sua pelle ebbe su di me un effetto magico. Mi produsse una gradevolissima sensazione di calore e vitalità. Successivamente sarei rimasto meravigliato nel conoscere la causa. Entrammo nella piccola stanza. E mentre il suo sguardo passeggiava sulle scarse ed antiguate decorazioni della stanza, approfittai per contemplarla meglio e sentii di nuovo quella vecchia sensazione, quasi dimenticata della mia infanzia, una certa piacevole oppressione in non so quale parte del mio petto, che mi avvisava della presenza della donna amata, mediante una gradevole difficoltà nel respirare. Era proprio da ridere, un povero anziano innamorato, oppure da piangere, innamorarsi quando manca un quarto d'ora alla mezzanotte. Tuttavia io mi rallegrai. Lei si mostrava amabile, affettuosa, comprensiva. Probabilmente si sarebbe già resa conto con la sottile prespicacia dell'adolescenza del profondo interesse che mi ispirava. E forse per quel sentimento di generosa compassione di ragazza bella, cosciente del potere che le dava la sua bellezza, mi concedeva una lemosina di affettuosa gentilezza. Avrei dovuto ribellarmi dinanzi al suo dono compassionevole e invece no, accettai con gusto il regalo del suo sguardo dolce e le fui grato della sua cordialità. Come si sente gratitudine per i piaceri semplici della vita? Come si guarda la vista di un bel paesaggio, del gorgheggio degli uccelli o della carezza di una tipica mattina? Sarà che nella maturità accettata e consumarsi la vita si va cancellando l'orgoglio. Ricordo che ti piace moltissimo, mi disse, una melodia che cantai in casa delle signorine Campos ormai molti anni fa. Molti anni. I giovani pensai contano i mesi come anni. Non potevano essere poi tanti per una giovane ventenne. Probabilmente mi sta scambiando con un'altra persona. Vabbè, ma non fa niente. Benedetto sbaglio che mi permette di godere della sua presenza. Vedrai, continuò, questa canzone la cantai 48 anni fa. Apro una piccola parentesi perché vado un pochino avanti nella lettura e poi facciamo un commento complessivo. L'autore che si definisce anziano in realtà, si legge in nota, aveva 56 o 57 anni. Quindi attenzione, 48 anni fa, se uno fa 56 meno 48 o 57, meno 48 vuol dire 8 o 9 anni. Quindi questa è un'esperienza che ha avuto un bambino in realtà di 8 o 9 anni. Proseguiamo la lettura in modo tale che cominciamo, almeno in questa prima puntata, ad ambientare e a focalizzare alcuni aspetti. che pena, che peccato, una così bella ragazza. Se io potessi aiutarli, magari sarà soltanto un disturbo mentale passeggero. Il mio amore per lei mi imponeva di giustificarla. Lui sta pensando che questa è fuori di testa perché ha detto che ha cantato una canzone 48 anni fa, mentre non può avere più di vent'anni. Dice, questa non ci sta tutta. Proseguro la lettura. Dopotutto, chi è perfettamente normale in questo mondo? In psichiatria si dice che la frontiera tra la normalità e la pazzia non è una linea nitida, bensì una zona piuttosto ampia che viene delimitata con molto margine dal parere della società. Un pazzo lo si rinchiude soltanto quando si comporta in modo antisociale. Per il momento decisi di eseguire la corrente e cominciavo a raccontarle qualcosa di appropriato, ma lei mi interruppe. No, non sono pazza. Asserì con un franco sorriso che mi permise di ammirare i suoi denti nettissimi, simmetrici, naturali. Mi evocasti nella tua giovinezza col soprannome di pajarera. perché questa fu la melodia che cantai 48 anni fa in casa delle signorine campo. Pajarera in spagnolo significa uccellaia, cioè la ragazza che alleva o vende uccelli, perché uccella appunto in spagnolo si dice pajaro. La canzone la pajarera. Sì, certo che la ricordo. Una romantica melodia di altri tempi, vincolata alle mie rimembranze di studenti con forti carichi affettive. Ogni volta che la sento qualcosa di intimo si agita in me e mi riporta alla memoria piacevole ed ingenue emozioni. Nei gaios che avevo con i miei amici, attenzione che nel Messico i gaios, cioè i galli letteralmente, significano le serenate notturne che i gruppi di amici dedicano ad una ragazza sotto la sua finestra. Di solito accompagnata da un complesso musicale, abbastanza famosi questi, i cosiddetti mariacci, contrattato a pagamento. Quindi nei gaios che avevo con i miei amici, pagavo poi da solo, pur di ascoltare la mia canzone e di impregnarmi più profondamente col fascino delle sue note. Ricordo che un giorno, essendo un bambino, mi trovavo in piedi presso un pianoporte verticale in casa delle signorine Campos. Una signora lo suonava ed una giovane bellissima, una dozzina d'anni maggiore di me. Attenzione, questo particolare, eh? Quindi, lui aveva otto anni, dice una dozzina d'anni maggiore di me. Quindi, dodici più otto fa venti. Quindi lei adesso gli sta apparendo così come era quando gli cantò la pacarera. Però, evidentemente, essendo un'anima già beata, in una maniera molto più bella e affascinante, di come invece l'aveva vista nell'episodio storico accaduto appunto 48 anni prima. Spero di essere chiaro, eh? Ma adesso non so come i particolari e nebulosi di quel ricordo infantile incominciano a chiarirsi, ricompaiono, come quando si leva la patina ad un vecchio bronzo. Adesso, in questa immagine che contemplo, vedo con tutta chiarezza la bella ragazza che, mentre cantava, sconvolgeva il mio essere e faceva sorgere nel mio cuore il primo sentimento di amore passionale della mia vita. E la donna del mio ricordo era molto simile alla giovane che adesso mi faceva visita. Non c'era dubbio che quella giovane che io evocavo col soprannome di pacarera l'ho sempre cercata in tutte le donne della mia esistenza. Le fu la prima passione della mia infanzia, la piacevole evocazione della mia giovinezza ed il grande amore ideale della mia vita. Tuttavia, nel fondo di me stesso, deve essersi conservata, indelebile, l'immagine del mio primo amore. Come un archetipo al quale doveva conformarsi ogni donna che io avessi amato intensamente. Più tardi rimasi stupito nell'apprendere la vera causa. Chiarificare un ricordo, ritornare quasi a viverlo, mi pareva un'esperienza affascinante. Ovviamente non potevo sospettare le meraviglie che stavo per vivere, che mi attendevano in questo straordinario incontro. Soltanto lamentavo che mi accadesse alla fine della vita. Quale gioia rivivere il più grato ricordo d'amore ingenuo di tutta l'esistenza. Presto il mio gaudio divenne inquietudine, ma non starò forse immaginando. Ma dopo tutto chi è realmente questa bella giovane? Perché indubbiamente si tratta di due persone diverse, sebbene si rassomiglino molto, non possono essere la stessa. Perché siamo a distanza di più di 45 anni. Suppongo che tu sia la nipote di quella bella giovane che conobbi in casa delle signorine Campos. Non è vero? No. Io sono la medesima ragazza che cantono alla tua infanzia. Questo non può essere. Dissi a me stesso. Probabilmente sono infermo nella siesta, sto facendo un piacevole sogno. E se è così non sarebbe meglio lasciarmi trasportare da esso anziché distruggerlo con i miei insistenti cavigli. È preferibile fomentare questa affascinante illusione. Poi arriverà il momento di svegliarmi e forse allora dimenticherò questo prodigio. Ciononostante, come avvenne il chiarimento del mio ricordo? Probabilmente fa parte della trama di questo sogno. E in tal caso non vi fu nessun chiarimento. Oppure in questa siesta la mia memoria retrograda di anziano è riuscita a mettere a galla nella mia fantasia l'antica immagine originale. Stavo ripetendo su questo quando lei insistette. Ti assicuro che non stai sognando. Sono io quella stessa donna del tuo ricordo. Il tono della sua voce era convincente. E un certo qualcosa mi spingeva a crederla. In quel momento io non mi spiegavo come poteva lei indovinare il mio pensiero. Soltanto dopo venne a saperlo. Adesso il pazzo sono io, dissi, perché non ci capisco proprio niente. Non ti preoccupare. Tutto questo te lo vado a spiegare. Se tu prometti di non stare ad inquietarti più, calmati per favore, altrimenti dovrò andarmene. No, no, questo no. Perdonami e parla. Mai avevo chiesto il nome della giovane e dei miei ricordi di infanzia. Mi sarebbero piovute burle, rimproveri e sani consigli. Intuì che dovevo tenere in segreto ciò che ricordava il mio primo amore. A quell'epoca dichiarare apertamente che un bambino di otto anni si era innamorato sarebbe stato quasi un sacrilegio. Da molto tempo, mi ricordo, hai chiesto all'Altissimo che durante la tua vita mortale ti facesse conoscere com'è la vita futura. Non è così? Infatti, gliel'ho chiesto più di vent'anni fa. Ma allora vuoi dire che io sono morto? Vuoi dire che... Calmati per favore, mi interruppe. Non sei morto ancora. Io sono venuto a parlarti un po' di com'è la vita eterna. Questa intervista te la faccio col desiderio di ottenere per te una maggiore umiltà. Un desiderio ardente della vita futura. Uno sprone affinché eserciti l'autentica carità cristiana ed una migliore conoscenza dell'amore che ha per te il nostro Dio. Mi credevo morto e non lo sapevo. Che serio deve essere il passaggio della morte se il solo aspetto di averlo fatto incontro tanto spavento. Non sono venuto ad inquietarti, insistette, ma a portarti pace allo scopo che il Signore, per mia mediazione, ti aiuti a trasformare alcune verità che la fede ti ha insegnato in convinzioni profonde e operative. Alcune di queste nozioni le conosci superficialmente, ci credi e le professi con sincerità, ma le hai approfondite assai poco. è che ti abbaglia l'attuale processo, l'attuale progresso scientifico. Di fronte ad esso, ciò che ti insegna la religione ti sembra antiquato e privo di sostanza. Tuttavia, scienza e fede hanno la stessa origine divina. Non ci può essere contraddizione tra di loro. Perciò sono venuta per chiarirti come si coordinano ammirabilmente la parola divina con alcuni postulati attuali della sincera scienza umana. Per i mortali non c'è nessun mistero nel mondo fisico che non punti verso un altro mistero più profondo e trascendente. Comprendo che tu sei un grande enigma per te stesso, è logico che ti riuscirà difficile capire le nozioni celestiche che voglio spiegarti, perché vai a svolgere il ruolo di attore e di spettatore. Tu sei parte del mondo che oggi vai ad esplorare. Dovrai collaborare e consolersi. Ricorda però che l'uomo attua non tanto per l'evidenza della verità che conosce, quanto per le convinzioni che ama. D'altronde la divina pedagogia è lenta, va d'accordo con la piccolezza umana ed è progressiva, perché in un certo qual modo dipende dalla perfezione culturale dell'uomo, raggiunta col proprio sforzo e con l'aiuto dell'Altissimo. Un po' si inquietò il mio timore, non tanto per le riflessioni che lei mi faceva, quanto per la sua bellezza incantevole. Facciamo un primo pit stop, o meglio forse probabilmente questo sarà il pit stop definitivo essendo la prima puntata di carattere introduttorio. Penso che qui abbiamo già diversa carne al fuoco da far comprendere. Allora, alcuni punti da mettere in evidenza. Questa ragazza è apparsa a questo bambino, a questo uomo, ma quando era bambino, una sola volta nella sua esistenza. Mentre cantava quella canzone. Canzone che ha fatto risvegliare in un bambino di otto anni, come c'è stato detto, ciò che non conosceva. Cioè, l'amore bello, l'amore passionale. Il primo amore, l'innamoramento. Dice, ha otto anni? E' certo che può succedere anche a otto anni. Questo è un punto molto molto importante, questo qui. Dobbiamo tenerlo fermo perché poi Tenera Amata spiegherà che questo loro feeling è scoppiato soprattutto in lui perché tra queste due persone, queste due persone erano da Dio state pensate, come relazionate l'una con l'altra, destinate ad amarsi, ad amarsi. Un amore che nella vita terrena non si sarebbe mai compiuto perché lui si è sposato con un'altra donna e lei, come sentiremo più avanti, si è sposato con un altro uomo. Amore non destinato a compiersi nella vita terrena, quindi quella che scorre nel tempo. cominciamo a familiarizzarsi con questo vocabolario che adesso nel tempo emergerà in maniera sempre più decisa. Quindi, ma attenzione, un amore divinamente stabilito è destinato ad essere vissuto e a compiersi in maniera, vedremo, molto molto concreta, anche se con l'esclusione assoluta, questo lo diciamo subito, di ogni dimensione sessuale, ma attenzione che la corporeità e anche il linguaggio dell'amore corporeo non coincide affatto con la sessualità. Possiamo cominciare a dire, tanto ci torneremo, che purtroppo per come siamo ridotti adesso, e qui si rimanda alla catechesi sul peccato originale, essendoci adesso la concupiscenza, in questo mondo noi non possiamo conoscere e né praticare, adesso non voglio mettere avanti alcune cose che dirate né ramata, certe forme di amore. Perché? Primo, perché il nostro Signore in conseguenza del peccato originale ha messo dei muri e delle barriere invalicabili. Secondo, perché non le potremmo vivere come Dio comanda, perché sarebbe impossibile vivere un forte coinvolgimento di amore affettuoso senza che si attivino le risorse alimentate dalla concupiscenza, per forza. E quindi è impossibile in questo mondo. Non si può. altro punto molto importante da mettere in evidenza. Perché questa donna è apparsa a quest'uomo? Numero uno, una preghiera esaudita. Noi possiamo fare queste preghiere al Signore. Questo gli ha chiesto durante la mia vita immortale fammi conoscere com'è la vita futura. Gliel'ha chiesto. Dice, è una preghiera che non si può fare? No, è una preghiera che si può fare. E gliel'ha pure esaudita il nostro Signore. Attenzione però, vent'anni prima gliel'ha chiesto. Quindi, prima di dire ah, il Signore non mi ascolta nelle mie preghiere. Calma, calma. Calma, che il Signore non mi ascolta possiamo dirlo quando... cioè, dopo che siamo morti. Perché i tempi di ascolto del Signore non sono i nostri. può darsi con una cosa che tu gli chiedi oggi. Lui te la concederà ma te la concederà appunto da vent'anni. Non domani. Non subito. Non adesso. Attenzione. I motivi per cui Terramata parla con Riccardo. Sono tanti. Uno. Ottenere per te una maggiore umiltà. umiltà. Sapete che l'umiltà è quella grande disposizione che ci relaziona correttamente anzitutto nei confronti di Dio. L'uomo è umile davanti a Dio, non davanti al prossimo. Umile significa come diceva il buon Socrate che sa di non sapere. umile significa che è aperto ad accogliere le nuove conoscenze. Qui come vedremo ci sono alcune nuove conoscenze ma parafrasando Sant'Agostino sono nuove ma neanche troppo perché si poggiano comunque su realtà che sono tutt'altro che nuove ma molto antiche. Poi un desiderio ardente della vita futura amici domanda oggi quando sento questa catechesi indiretta o indifferita in qualunque momento la stai sentendo com'è il mio desiderio ardente della vita futura? se ci fosse una diretta come dire una diretta reale ci accontentiamo delle dirette virtuali però se io stessi parlando stanno seguendo la diretta in 130 persone stessimo in chiesa la mia chiesa in 130 ci potremmo vedere in faccia un po' tutti io farei alzare la mano dico senza dire le bugie che stiamo in chiesa stiamo davanti al Signore alzi la mano chi adesso sente un desiderio ardente della vita futura io non vedo l'ora si purtroppo c'è il problema del purgatorio questo è un problema grosso questo qua specialmente per chi vi parla però io di per sé non vedo proprio l'ora desiderio ardente attenzione che questo desiderio ardente della vita futura il Signore lo vuole vedere quelle cose che orecchio non vite scusate quelle cose che occhio non vite le orecchie non dì nemmai entrare nel cuore di uomo queste Dio ha preparato per coloro che lo amano e se una persona ha un desiderio ardente della vita futura sta dicendo già con questo desiderio al Signore ma grazie per tutto quello che mi hai preparato tu sei veramente il numero uno sei un grande anzi sei il più grande di tutti sei l'altissimo importantissima questa cosa sapete che non voglio adesso invadere il campo dell'altro ciclo di Catechesi ma nel purgatorio nella parte più alta del purgatorio qualcuno lo chiama il prato fiorito o il purgatorio di desiderio cioè proprio l'ultima fase della purificazione dove il desiderio del paradiso si arroventa proprio diventa un qualche cosa di incontenibile attenzione perché Dio non si comunica a chi non lo desidera in questo modo Dio fare lontananze anche con noi cioè ci dà qualche cosa e poi si ritrae perché vuole che il nostro desiderio è la molla della vita cristiana della vita interiore è fondamentalissimo in tutto e per tutto pensate un amore anche umano quando è che muore quando gli innamorati gli sposi molti matrimoni che vanno un po' all'etargo non si desiderano più il desiderio è proprio il motore della nostra vita uno sprone affinché eserciti l'autentica carità cristiana attenzione subito noi pensiamo l'amore del prossimo no carità con la C maiuscola cristiana è l'amore di Dio cioè uno sprone a farti vivere il primo comandamento amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le tue forze e certo poi è il prossimo tuo come te stesso ma la prima cosa è il primo perché sapendo queste cose uno si infiamma di amore di Dio speriamo che al termine di questa lettura di questo circolo di catechesi questo è l'unico obiettivo che ha che ti venga un po' di desiderio del paradiso e che ti infiammi un po' di più di amore verso il Signore e che tu sia grato per tutto quello che ti sta preparando e ti ha già preparato e una migliore conoscenza dell'amore che ha per te il nostro Dio che è importantissimo conoscerlo le cose che ci ha preparato e qui c'è il legame ecco perché ci si è imbarcato Don Pablo Martin evidentemente nella traduzione io quando ho visto che l'aveva tradotto lui me lo sono divorato perché dico c'è stato in mezzo Don Pablo Martin sicuramente c'è di mezzo la Divina Volontà ma la Divina Volontà cioè dire parlare di Divina Volontà o parlare di amore di Dio non è esattamente la stessa cosa ecco però perché l'amore è ciò che circola è ciò che viene messo in campo dalla volontà divina ancora altro scopo aiutarlo a trasformare alcune verità che la fede ti ha insegnato in convinzioni profonde e operative io nella mia povera predicazione amici cari cerco sempre di stimolare questa cosa qui cioè se la tua fede è autentica ti sprona in continuazione ad operare dicevo qualche giorno scusa un attimo ma se tu sei proprio profondamente convinto che esiste il paradiso e che in paradiso ci sono dei gradi differenti di gloria ma ti pare che non che non ti impegni che non fai qualche cosa cioè fai una preghiera in più e la facciamo perché una preghiera in più è un grado di gloria in più ma è chiaro che se io non ho una fede come dire che si trova a livello di convinzioni profondi non è che dice ma esiste il paradiso beh speriamo forse questa non è fede questa qui questa non ti porterà da nessuna parte dice tenere la mano alcune di queste nozioni le conosci superficialmente ci credi e le professi con certamente con sincerità ma le hai approfondite assai poco la qualità della nostra vita cristiana dipende da quanto abbiamo approfondito le verità di fede che professiamo e dice guarda che questo dipende probabilmente dal mondo prettamente scientifico in cui si è immerso però ricordati una cosa ed ecco un altro fine ancora che scienza e fede hanno la stessa la vera scienza e la vera fede perché questa è pure la pseudoscienza e la falsa fede ma la vera scienza e la vera fede hanno la stessa origine divina non ci può essere contraddizione tra di loro e quindi ulteriore specificazione sono venuta a chiarirti come si coordinano ammirabilmente la parola divina con alcuni postulati attuali della sincera scienza umana e attenzione che per i mortali attenzione cosa sarebbe bene andare a dire gli scienziati atei qualcuno è morto da qualche tempo per i mortali non c'è nessun mistero del mondo fisico fisico la fisica tu dici la fisica si apre al sopranaturale sentite non c'è nessun mistero del mondo fisico che non punti verso un altro mistero più profondo e trascendente perfino le reggi della fisica ci elevano al cielo ecco quindi è è bellissimo questo percorso ricorda le dice che l'uomo attua non tanto per l'evidenza della verità che conosce quanto per le convinzioni che ama l'amore che è alimentato dal desiderio e la molla delle nostre azioni ecco quindi ci siamo un pochino ambientati ragazza di vent'anni vista soltanto una volta che aveva suscitato tutti quanti questi amori e che vedremo essere incaricata dal signore di venire a parlare a quest'uomo delle bellezze del cielo certo ha vissuto una bellissima esperienza Riccardo Riccardo Perez Hernandez probabilmente qualcuno di voi lo invidia un po' bene amici direi che per oggi possiamo fermarci e ci diamo appuntamento se vi vuole a venerdì della settimana prossima e ci diamo e ci diamo